Mese, quella che non riusciva a segnare, non riusciva a vincere. Sì, è un primo tempo bruttino. Ci siamo ripresi nel secondo tempo e poi è arrivata una vittoria, penso, meritata dopo quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Si è parlato tanto in quest'ultimo periodo per l'assenza di risultati, si è andato a scavare i rapporti di uno sfogliatoio, la posizione di Petkovic. I rapporti che secondo qualcuno tra il gruppo e l'allenatore sono cambiati in questo periodo. Qual è la versione dal di dentro? La versione è che poi quando non si raggiungono i risultati escono tante cose. Eravamo in difficoltà perché non arrivavano i risultati, altrettanto le prestazioni. Quindi ci può stare che escono queste cose, però noi siamo un gruppo unito e siamo con il mister al 100%. Qual è il problema di grande risolvere? Quello che chiediamo sempre e ci domandiamo noi è la continuità, la continuità non di prestazione, la continuità di approccio alle partite. Perché poi comunque quando anche siamo in difficoltà e sotto di risultato la prestazione esce comunque. Però magari è meglio approcciare meglio le partite per poi non andare in difficoltà durante la partita. Io pensi che questo sia un problema che parta da lontano, nel senso che le stesse difficoltà le eravate anche dal girone di ritorno dell'anno scorso? È una bella domanda. Ci sono sempre stati questi blackout. Speriamo che... no speriamo, dobbiamo migliorare perché poi arrivano dei risultati negativi e delle difficoltà. C'è però anche un approccio nervoso alla partita. Insomma, quando ci sei si vede il tuo peso anche dal punto di vista della grinta. In molti poi dopo si rendono conto che in alcuni tuoi compagni non c'è lo stesso tipo di approccio. Beh, questo può essere anche una cosa che magari non si è tranquilli. Non si è tranquilli perché i risultati non arrivano e magari c'è la tensione dei risultati e della prestazione. Però, ripeto, i giovani stanno facendo bene. Bisogna farli crescere con tranquillità perché comunque sono in un grande club come la Lazio. Non è facile a 20 anni, 21 anni essere protagonisti alla Lazio. Bene, grazie.